Buoni propositi per il 2018 Tornare attivo sul canale riprendendo a fare i video cercando di procurarmi dell'attrezzatura migliore di quella in mio possesso, ossia nessuna Ricavarmi il tempo per leggere i molti libri che ho accantonato da ormai molto tempo tra cui quelli di Telmo Pievani Farvi vedere che ho fatto con alcuni insetti catturati con i vasi trappola che avevo sistemato a casa mia Far partire il progetto di live che avevo in mente cercando di farlo diventare un appuntamento fisso per voi verdastri Tanti auguri di buona fine e buon inizio 2018 Ci vedremo presto con nuovi video Grazie a tutti